Uh, cuore, buongiorno, buongiorno, vabbè, so' contento che ti senti bene stamattina, che a quanto pare, insomma, è andato tutto liscio stanotte, e che non ti senti più la febbre, dai, mo' vediamo come va oggi. Senti, per il discorso della via, cuore, non è che mo' ci dobbiamo fare, lo so che è normale che uno si faccia mille domande, ci mancherebbe, però visto e considerato che probabilmente non sta bene, e quindi non sappiamo il perché non ha chiamato, probabilmente, che ne so, c'è qualcuno che magari risponde al telefono che lei non vuol chiedergli niente, poi non è che dice c'è il tuo numero di telefono, dice cazzo c'è il mio numero di telefono, manco mi ha chiamato per sapere come sto, cioè è strana questa cosa, insomma, eh, poi, eh, tutto può essere, può essere, eh, che, cioè ci possiamo fare mille, mille domande e avere zero risposte, quindi io direi aspettiamo che torna e vediamo un po' cosa dice, cosa non dice, come si comporta, come non si comporta, insomma, eh, poi stamattina ho cercato di farti ridere un po' in dialetto, eh, perché, no, eh, è un detto, no, che dice che quando uno è poveretto, manco la moglie lo sopporta e lo, eh, e lo vuole al suo fianco, insomma, eh, quindi il fatto quando tu mi hai detto, no, eh, eh, che, 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 che nella vita è, la situazione come, cioè le donne sono tutte uguali, insomma, eh, vabbè, ci sono anche le donne, voglio dire che comunque ti sopportano anche se non hai un centesimo in tasca, assolutamente, non, eh, sì, non è una, 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 come si dice, è come trovare l'ago nel pagliaio, insomma, eh, ma noi non abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno di una persona che, eh, come ti ho sempre detto, una persona che stia al nostro fianco, che ci voglia bene, che, eh, anche senza un centesimo in tasca, insomma, quella è la cosa, eh, fondamentale in un rapporto, eh, ci si deve voler bene anche senza nulla, no? Come si dice, eh, eh, volersi bene anche in una capanna, anche se purtroppo il mondo è diverso, no? Eh, però, voglio dire, c'è, c'è, si può trovare qualcuno, poi, voglio dire, sulla via io non mi esprimo perché comunque, eh, non sappiamo quello che gli è successo, quindi, ripeto, cuore, non hai, non hai il tuo numero di telefono, tu non hai il suo numero di telefono, quindi alla fine non possiamo sapere effettivamente qual è la situazione, quindi non mettiamo adesso il carro davanti a voi, capito, cuore? Eh, aspettiamo quando rientra, poi capiremo, sapremo, insomma, e sicuramente delle spiegazioni avrà, ci mancherebbe, eh, va bene, perché mi sembra strano che comunque non non abbia avuto il pensiero per te, nonostante anche lei, voglio dire, non non stia bene, quindi bisogna capire questo fatto, quando ha detto non sto bene, bisogna capire il motivo che cos'è successo, capito? Eh, quindi io adesso non vorrei stare a farmi mille, mille pensieri, insomma, eh, aspettiamo, quando torna vediamo, capito? No, pensiamo a curarci, a riprenderci, e questa è la cosa, è la cosa a cui dobbiamo pensare, poi la vita è fatta di mille sorprese, cuore, eh, lo sai benissimo, eh, e nella peggiore delle ipotesi, cuore, morto un mondo se ne apre un altro, non ti preoccupare, eh, voglio dire, tu hai tutte le caratteristiche, eh, speciali di una persona, eh, al di fuori di quello che è, eh, il lato che io sinceramente non, non, come dire, quando una persona è bella, è bella tutta, a prescindere ciò che ha o ciò che non ha, quindi voglio dire, non, siccome tu sei bello, in tutto e per tutto, quindi, voglio dire, nella peggiore delle ipotesi, se muore un mondo, se ne creerà un altro, stai tranquillo, cuore, e poi ti ho sempre detto, nel paese dei ciecati, quello con un occhio fa il sindaco, che significa? Eh, è così, cuore, quindi tu, quando starai fuori, vedrai altro, sentirai altro, conoscerai altro, eh, eh, si tratta solo, poi, eh, non mi va di additare questa persona, cuore, dobbiamo solo aspettare e capire che cosa è successo, basta, eh, ma boh, mo' pensa piuttosto a guarire, che devi uscire, voglio, hai rotto le palle a stare là dentro, in quelle quattro mura, eh, meh, diamoci da fare, babo, meh, un bacio, un cuore e un abbraccio, meh, cuore, diamoci da fare, dai, dammi notizie più precise su come ti senti, ok? Ciao, cuore mio, ciao.